La sera del 12 dicembre del 2023 nel rione San Berillo Nuovo di Catania avrebbe esploso diversi colpi di pistola munita di silenziatore in un luogo abitato, passandosi l'arma da provare di mano in mano. E l'accusa è contestata dalla procura del capoluogo etneo a quattro persone arrestate dalla sezione Falchi della squadra mobile della Questura.